Ciao a tutti ragazzi sono Marti Vigiei ed oggi siamo in un nuovo video Oggi faremo la finale di Alien Isolation Finalmente siamo arrivati alla fine Non vi spoilerò niente ma dite soltanto buona visione Intanto vorrei salutare dei miei amici prima di iniziare Che sono Andrei, Eleonora, Chiara, Andrea, Andrea, Alessia e Paolo Ciao vi dico sempre di andare a passare nel canale di Sparker E anche nel canale di Paolo il Grande Così vi iscriverete nei loro due canali E saranno tutti contenti E ora iniziamo Iniziamo col gioco Perfetto Eccoci qua e iniziamo ad andare dal perfido alieno Eravamo arrivati qua E andiamo Bene Eccolo Non mi ricordo che era Per la prima volta che sono morto ragazzi Proprio nei vostri occhi Ok Raga Cattivo esempio Non prendete esempio da me Io sono solo un fallito Beh è vero Stranamente la prima volta che sono morto Stranamente Vabbè Ricominciamo dal punto di controllo Che è meglio Non facciamo Non sprechiamo il nostro bellissimo lanciafiamme Se no siamo morti Ma dico sul serio Ma morti morti eh Intanto caricamento ci mette 3 ore Questo video lo state vedendo il giorno dopo Ma io l'ho registrato ieri Cioè oggi Cioè Vabbè Non si capisce niente Va bene Aspettiamo Alleluia Alleluia Madonna Mi fa ripartire da qua Che bello Ok Ricominciamo da capo Senza farci uccidere Stavolta Mi raccomando Eccolo qua L'ho sentito già dal radar Eccolo qua Arriva qua Eccolo Eccolo Vai Fuso come un Cinghiale Arrosto Eh Destra Destra Vai Sinistra Proseguo Proseguo Sbaglio Stiamo facendo il giro E' qua raga E' qua Come faccio Lo so L'ho visto Ok Non c'è Non c'è Oddio Che paura Ok Devo andare Qua No Madonna Mi mette Anza E' buio Ve lo dico Sto registrando Sto video Di notte Non che stanno Non che stanno a dormire Tutti Però Qua devo stare Perché mettono in ricerca Se non c'è niente Come nasconditi Qua Sfuggi dall'alieno Cioè Ah Giusto Mi ricordo Tutto Devo Praticamente Farlo andare Nella chiusa D'aria Così lo spediamo Nello spazio Vedi E' qua E' qua E' già Sta venendo qua E' appena arrivata qua Signorino E se non te ne sto Stai accorgendo Ok Ok Aspettiamo che Va nella chiusa d'aria Vai Vai Andiamo Andiamo No No Resta là Resta là Resta là Non ci credo Ancora Tutto da capo Eccolo Eccolo qua Brutto schifo Adesso vedi Chi vincerà La battaglia Vedrai Chi vincerà Io vincerò Tu non conti niente Brutto schifo Che cavo Quando è pronta Stavo per dire Stavo per dire che non c'è Perché non sto zitto Perché non sto zitto Tanto Ok Ok No porca cazzo Vattene Vattene piglia Vai Vai Andiamo Vai 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 Sì Vai schifoso Chiudi Perché non va Ma io Ma io Ma io Non ho scelto Non ho scelto Da coscienza Prima orsi Ho illusione di moralità Non ancora Inutile mentirvi sulle vostre possibilità Ehi Sto zitto Adete la mia solidarietà Go in E' finito così il gioco Oh ragazzi Ma che cacchio è sto gioco Ok Oh Il prossimo gioco di Alien Sarà Unica Superstite Ditemi se volete vederlo Mi piacerebbe Non farlo a pezzetti A parti proprio unico Proprio inizio il gioco E lo finisco subito A primo gioco Ditemi se volete Se volete il prossimo Alien Comunque qua Io Dirvi La storia Se non avete capito bene Io ho capito che Praticamente Ash Che è un androide Ha manomesso Il tasto per farlo andare Perché è un androide L'androide voleva salvare la creatura E portarla nella terra Distruggere l'umanità Ma io non so ancora Perché voleva fare questa cosa Beh se vedete il film Ma io non ve lo consiglio Però comunque nel film Capirete più cose Questo è un videogioco Se si è visto il film Va bene ragazzi Se questo video di Alien Isolation Finale vi sia piaciuto Mettete Spolliciate Iscrivetevi Attivate la campanellina E Ciao Ciao